A 13 anni le questioni di cuore, si sa, non vanno sottovalutate, anzi spesso diventano quasi una ragione di vita. Rubare dunque un fidanzato può voler dire guerra aperta. E proprio un amore conteso ha portato a un atto di bullismo, questa volta tutto al femminile. Una storia di bullismo al femminile atipica, perché di solito il bullismo al femminile si concretizza in minacce, frassi, situazioni di immarginazione, atteggiamenti denigratori. In realtà qui abbiamo un atteggiamento concreto, che si formalizza con un'aggressione, con un contatto fisico molto violento, molto cruento. Abbiamo calci, pugni, abbiamo sangue, abbiamo una ragazzina che rischia la rottura del setto nasale. Una situazione che nasce da un episodio di rivalità sentimentale tra due e tre decenni, che si contendono un ragazzino, il quale lascia una delle due per fidanzarsi con l'altra amica. Dunque questo lo sgarro commesso dalla tredicenne, che viene inizialmente derisa e offesa su Facebook, ma poi la sua sconfitta contendente, torna alla carica e fissa un appuntamento su internet per affrontare la rivale. Da offese su internet si passa ad un atteggiamento da vera bulla, cioè la richiesta di un incontro per affrontarsi, non tanto per chiarire e per risolvere, ma quanto proprio l'affronto, il contatto vero, insomma. Quindi il decidere chi è più forte e chi l'ha vinta, diciamo, sull'altra. Dalle parole si passa in breve ai fatti. La vittima preoccupata per l'appuntamento si presenta con il padre, mentre l'altra tredicenne è venuta accompagnata da altre tre amiche, tutte tra i 13 e i 14 anni. Spintoni, calci, pugni e la ragazza cade a terra. A questo punto il padre interviene e porta via la figlia, che forte della sua presenza insulta nuovamente le ragazze. Scoppia l'ennesima lite, che viene però bloccata dagli agenti del commissariato Colombo. Le quattro ragazze vengono denunciate tutte in stato di libertà per lesioni, ma il padre della vittima, non contento del risponso arrivato dal magistrato, decide di farsi giustizia da solo. Viene però intercettato dagli agenti, avvisati dalla madre di una delle ragazze che avevano aggredito la tredicenne, che chiamando a casa della giovane per accertarsi delle condizioni di salute, era venuta a conoscenza del fatto che il padre stesse arrivando proprio sotto casa loro. La madre ritiene opportuno chiamare il commissariato, avvertirci di questa situazione e quindi consentire a noi di poter intervenire tempestivamente ed anticipare l'arrivo del personale di polizia sul posto e poter poi tamponare quella che poi sarà una successiva aggressione tra due adulti. L'uomo su tutte le furie, oltre a colpire il padre della ragazza che ha visto rubarsi il fidanzato, si scaglia anche contro gli agenti intervenuti per sedare la lite. L'uomo di 42 anni condotto in ufficio è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.